amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive oggi siamo qui per presentare una chicca una chicca di casa alfa e nello specifico una giulia super anni 70 72 73 adesso non ho guardato bene sul libretto comunque è poco oltre gli anni 70 direi che fa ancora la sua bella scena il motivo per il quale il cliente ce l'ha portata è la pompa dei freni che ovviamente datata l'abbiamo dovuta smontare e portare a revisionare perché ovviamente non aveva più la pressione sufficiente quindi gioco forza il lavoro da fare è questo e poi dobbiamo dargli un'occhiata alcune altre piccole parti però come potete vedere da come la situazione all'interno del vanno motore o la parte di carrozzeria direi che è una macchina assolutamente molto ben tenuta quella che ha la chicca straordinaria è la targa CB campo basso fondo nero e numeri verniciati in bianco questa probabilmente è stata rifatta se non sbaglio no è ancora originale perché ha sul il loghino che sia un po sbiadito se no nel caso ci sono alcune ditte che riproducono le targa però non sono adibite alla circolazione questa è una macchina ripeto secondo me è una delle più belle alfa mai costruite fatta appunto ad arese difficilmente se ne vedono diciamo in giro ancora in maniera o meglio quelle che ci sono sono tutte in mano a collezionisti quindi rispetto una volta che finivano quasi tutte dallo stascia carrozze quelle che ci sono quelle che sono rimaste presumibilmente sono tutte tenute in eccellenti condizioni perché ovviamente sono in mano a dei collezionisti sono tutte macchine oltre i trent'anni quindi sono macchine assolutamente storiche quasi tutti i clienti adesso questo non ho controllato non ho chiesto al cliente ma quasi tutti i clienti fanno o le registrano al regista storico alfa romeo oppure tramite asi e in quel caso beneficiano sia da un puntista fiscale ma soprattutto per poter circolare in determinati giorni o momenti cosa che viceversa sarebbe impossibile perché noi purtroppo abbiamo il nostro bene amato sindaco di milano e non vado oltre per non farmi bannare perché non mi sta proprio molto molto simpatico il quale ha deciso di fare una battaglia a tutto campo su qualunque genere di vettura l'ultima volpata del fenomeno è stata quella di bloccare le vetture euro 5 euro 2 a benzina vetture che se tenute in perfetta efficienza possono ancora assolutamente circolare e non vanno inquinare questo è ovvio che è una vettura euro 0 quindi diciamo andava ancora benzina rossa è evidente che una macchina del genere è un inquinamento maggiore lo produce ma è anche altrettanto vero che nessuno si mette a usare una macchina di questo tipo tutti i giorni che quel folle che si mette a usare una giulia super tutti i giorni quindi è chiaro evidente che sono macchine che vengono utilizzate che sono per il 99 per cento della loro vita sono chiuse in garage magari sotto il telo protettivo e la volta che uno la usa la domenica siamo a milano c'è un aeroporto qui a 5 chilometri di distanza c'è un filo di differenza tra l'inquinamento che creano gli aerei e quello che può creare anche una macchina di questo tipo per cui tanti ringraziamenti al nostro sindaco che spero si levi dalle p***e il più presto possibile e magari ci lasci lavorare un pochino meglio per quelli che amano questo sindaco pazienza si becchino questo mio commento io sono totalmente da un'altra parte chiuso l'argomento politico direi che anche per questa giulia super è tutto per qualunque generale informazione contattatemi in sede 0 2 7 3 8 3 1 7 5 noi lavoriamo sia su vetture datate storiche youngtimer che su vetture ovviamente moderne sono molte più le vetture moderne ovviamente che ci capitano che non vetture di questo genere però quando capitano riusciamo a lavorare anche su queste con qualità e soprattutto c'è una soddisfazione perché sono macchine che dal mio punto di vista hanno un'anima che quelle moderne non hanno consultate il sito www.ileagiri.it soprattutto nella parte archivio elaborazione dove troverete 3600 schede vettura quello che vi chiediamo è cliccare in basso a destra sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per darci una mano a farlo crescere per rimanere sempre aggiornati a tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima grazie a tutti